ed eccoci a fare adesso gli anelli fissi questi qua allora prendiamo sto usando un filo elastico in silicone ma vi consiglio quello chiamato cucirino cioè che ricoperto di cotone perché non si sfilaccia come questo comunque adesso avevo questo un unico filo o lungo almeno tre quattro volte la circonferenza che vi serve alle due estremità due aghi si infilerà la perlina la prima perlina che in questo caso è color oro all'inizio del nostro cerchio a metà del nostro filo poi ci saranno le perline laterali che in questo caso sono argento due per lato e poi si chiuderà il nostro cerchio ancora con la perlina oro ecco qua mettiamo due laterali poi vedremo che cambiare il tipo di perlina un numero di perline cambierà completamente il tipo di maglia ecco e adesso andiamo a chiudere il nostro cerchio la particolarità di questa lavorazione ma in realtà è molto semplice con l'ago di destra il filo la perlina a sinistra come vi faccio vedere e adesso una volta che ho infilato sul filo con l'ago di sinistra infilo nel senso opposto la perlina verso destra così tiro il tutto e vedete che magicamente si forma da solo l'anellino come vedete è semplicissima cosa ora continuiamo due laterali colore argento da una parte due laterali colore argento dall'altra e andiamo a chiudere ancora con nostro anellino dorato adesso parto da sinistra verso destra per farvi vedere che è indifferente da che parte si inizia a infilare l'importante è che i due fili si devono inserire in senso opposto all'interno della perlina di chiusura tiro ed ecco seconda nel limo vedete molto semplice d'effetto ora farò un anellino quindi continuerò fino alla misura che mi serve poi vi faccio vedere come si chiude l'ultimo eccoci qua adesso devo fare l'ultima ultimo anello faccio due perlina argento da una parte due perlina argento dall'altra però non chiudo l'anello inserendo un altro un'altra perlina d'oro ma vado a prendere la prima perlina della fila che ho inserito così che si chiude su se stesso come faccio a chiuderlo l'ago che a sinistra infilo l'ago che a destra iniziamo da destra lo infilo nella perlina d'oro verso sinistra solo la perlina d'oro mi raccomando così e l'ago che ho a sinistra infilo solo la perlina destra solo la perlina d'oro verso destra tiro e magicamente il tutto si richiude su se stesso ora sono da fare due nodini per non farli tutti e due dallo stessa parte e poi devo incastrarli sotto la stessa perlina che piccola risalgo su adesso sono venuta da quel lato quindi risalgo su di una perlina sono venuta dal di lì risalgo su ancora di una perlina con l'ago e faccio il nodino un po' più in là così che vado a nascondere poi dopo sotto quest'altra perlina il mio nodino solito sistema un anello due concentrici un nodo cioè due concentrici e poi terzo a chiusura e si nasconde tutto sotto la perlina finito abbiamo un anello che elastico che ha la caratteristica di poter essere infilato un po dove vogliamo vedete questo è uno stile abbastanza tra l'elegantino ma può essere anche un po sportivo moderno se cambiamo per esempio la perlina centrale mettiamo una grossa abbiamo un effetto che cambia questo è più un anello a fascia un po più elegantino un po più da signora e già ha un primo effetto completamente diverso rispetto al precedente ora vi faccio vedere cambiando le perline il numero di perline cosa succede mettiamo una grossa rotonda e una per lato ovale lavorazione sempre la stessa e vi faccio vedere però cosa cambia cambiando il tipo di perlina o numero questa è la stessa maglia una sola perlina ovale l'effetto è tutto molto carino anche questo se io lateralmente vado a mettere due perline ovali vediamo che automaticamente la maglia prenderà una forma particolare perline laterali si andranno a mettere in una forma che adesso vedrete se non guardate con altro colore tirando guardate fa formarsi quasi un esagono una maglia completamente diversa dalla precedente e non abbiamo fatto nient'altro che mettere solo due di di questi tipi di perline se io ne vado a mettere addirittura tre per lato queste perline ovali adesso ho finito le perline grosse rotonde ne metterò una un po più piccola chiusura ma vedremo lo stesso l'effetto che si va a formare questa è quella che dovrebbe essere di chiusura chiudo e vediamo che si è formato un ovale guardate come cambiano posizione in maniera abbastanza differente ecco ecco niente a che sembra tutto un altro tipo di lavorazione rispetto a queste che dice lavorazione è proprio la stessa completamente la stessa abbiamo messo una sola laterale uguale a quella sopra e a quella sopra se poi cambiamo colori le perline guardate che effetti carini e adesso guardiamo quattro tutte uguali come queste a pallina rosa sembra ancora tutto un altro tipo di lavorazione è sempre la stessa abbiamo messo una sola laterale uguale a quella sopra e a quella sotto cioè la prima e l'ultima ora guardate quest'altra lavorazione è la stessa però non vado a mettere nulla lateralmente cioè uso questi cilindretti ho inserito il primo mezzo al mio filo e poi tutti successivamente vengono infilati direttamente così destra sinistra sinistra destra si tira adesso qui ho fatto il filo doppio perché volevo che fosse molto più resistente altro cilindretto direttamente destra sinistra sinistra destra quindi ho tolto le perline laterali adesso voglio fare un braccialetto quindi dovrò mettere un bel po' di perline in più eccolo qui adesso continuerò lo sto finendo ma guardate che effetto lo trovo veramente interessante veramente carino eccolo finito poi qui c'è qualche altro esempio da vedere come braccialetti come anelli potete proprio sbizzarirvi allora